Buonasera, sono Valentina Onori, corro per il team KTM Milani, corro con KTM 125, vado in moto da qualche anno, solo che è un paio d'anni che lo faccio a livello agonistico. Oggi siamo qua, sono fiera di partecipare a questa manifestazione, purtroppo per problemi lavorativi non sono tanto allenata ultimamente, però recupereremo presto. Io sono militare, sto nell'esercito italiano da qualche mese, da 4-5 mesi, ho finito a luglio le scuole superiori a 20 anni. Invito tutte le ragazze a non aver paura, soprattutto di sporcarsi o di rompersi le unghie perché è lo sport più bello del mondo. conciliare moto e lavoro non è tanto facile, soprattutto in questi primi mesi di addestramento non è molto facile perché a volte non ti danno la licenza del fine settimana e quindi allenarsi è molto dura. Per fortuna l'esercito ci fa allenare in maniera fisica, quindi con la corsa, dominali e flessioni e questa è una cosa buona. Però bisogna comunque andare in moto perché altrimenti non rendi. Questi mesi sono un po' difficili, però penso di avere verso maggio una stabilità migliore, così posso partecipare anche al campionato italiano e non vedo l'ora. A parte in questo caso che è capitata una gara di sabato, spesso sono la domenica mattina, anche gli allenamenti sono di domenica mattina presto. Infatti questa vita richiede un po' di sacrifici che però ripartono delle cose bellissime, ad esempio non uscire il sabato sera come fanno tutti i due amici, fare tardi le tre e le quattro, invece io alle dieci quando ho una gara già dormo. Però sono contentissima della scelta che ho fatto e sottolineo di nuovo, invito di nuovo alle ragazze a provare, a non aver paura e a lanciarsi e buttarsi in questi sport che non sono maschili assolutamente. Ciao, io sono Alessia Da e sono una pluricampionessa del mondo di moto d'acqua, ho corso vent'anni con le moto d'acqua e da qualche anno ho scoperto le moto d'enduro. Questa è la mia moto, è una KTM come potete vedere, è una 250 e diciamo che ormai è la mia compagna di avventura del sabato e la domenica. Qualche suggerimento a chi si vuole avvicinare al mondo dell'enduro è di avvicinarsi senza problemi perché è molto più facile di quello che sembra e di cominciare magari con cilindrate un po' più piccole. Come donna che fa enduro, che può essere la caratteristica più particolare, vi dico subito che tutti pensano che sia una cosa da uomini, invece no. Esattamente la forza è relativa per fare questo sport, anzi in realtà serve molto equilibrio di cui noi donne siamo ben dotate ed è molto facile per noi donne crescere velocemente su una moto perché in genere ascoltiamo molti consigli a differenza dei maschietti e abbiamo anche la fortuna di essere anche molto agili, quindi anche questo aiuta per fare enduro. Nella fattispecie una moto da enduro normalmente è un po' alta, quindi magari l'unica difficoltà per noi donne è che magari possa essere leggermente alta la sella, però in genere aiuta magari abbassarla un po' o comunque si possono tarare le sospensioni per la propria statura. Paradossalmente da donna all'enduro lo vivo molto bene perché in genere ormai non siamo poche, siamo tante e in genere ci diamo anche parecchio una mano. La cosa bella dell'enduro è anche questa, che c'è un bel mutuo soccorso facendo questo sport e ci si diverte anche tanto. Ci si allena e si passa una giornata in compagnia e anche a contatto con la natura, che è una delle caratteristiche salienti dell'enduro, cioè fare uno sport rimanendo a contatto sempre con la natura ed esplorando posti nuovi che normalmente non avreste modo di conoscere se non fosse campioni di mountain bike o anche campioni di trekking. Io di lavoro faccio la rappresentante, però aiuto il mio compagno il Sabra Domenica che è una scuola di enduro ad avvicinare neofiti a questo sport. La cosa strana è riuscire a conciliare lo sport con il mio lavoro e anche con la vita da mamma perché sono anche mamma di due bambine. E beh, si fa, nel senso che ci si organizza con molti sacrifici, come potete immaginare, però basta una forte determinazione e aiuti a fare anche questo. riusciamo a organizzarci con famiglia, babysitter e chi altro, a trovare il tempo necessario per riuscire ad andare in moto. Purtroppo l'enduro necessita di parecchio tempo, però è una cosa che si fa. Paradossalmente sembra strano dire avvicinarsi a uno sport, come faccio ad avvicinarmi a uno sport se non ho la moto, se non ho l'attrezzatura necessaria. In realtà facciamo anche questo, aiutiamo le persone che non hanno mai provato questo sport. il sabato e la domenica a provare uno sport senza avere l'attrezzatura, dandoti tutto e facendoti assaggiare il mondo dell'enduro. E' una cosa che noi facciamo con molta passione perché è la nostra vita. Per me la moto è la passione da quando ero piccola, quindi in realtà è una cosa che faccio senza neanche rendermi conto, lo faccio e basta. Però basta organizzarsi, un minimo di ausilio da parte delle famiglie e ci si riesce. Vi invito tutti a provare, magari anche con la mia moto, una KTM 250 e spero di vedervi presto. In anteprima quest'anno al Moto Days KTM Freeride Elettrica, l'ultima nata in casa KTM. Grandi ambizioni per il futuro, un futuro privo di rumore e il rispetto dell'ambiente. KTM Freeride Elettrica nelle tre versioni, quindi omologata per uso stradale, per il fuoristrada e anche la versione senza targa per circuiti chiusi. La moto è dotata di un pacco batteria che garantisce un'autonomia di circa un'ora con comunque la possibilità di scegliere fra tre mappature motore che chiaramente vanno a incidere poi sulla durata della batteria. Le caratteristiche tecniche sono al pari di una Freeride a motore, quindi con forcelle WP da 43 mm, sospensione posteriore WP, quindi con le stesse possibilità che ci offre una moto a motore ma nel rispetto dell'ambiente. La batteria ha tempi di ricarica estremamente rapidi perché abbiamo l'80% di carica nei primi 50 minuti, quindi è anche veloce. Il caricabatterie da portare dietro si può attaccare a qualunque presa di corrente, non ha necessità di prese industriali ma va bene anche la presa di casa. Il futuro dell'enduro forse probabilmente sarà l'elettrico. L'elettrico non disturba, non inquina e ci permetterà di andare in posti ad oggi off limits per le moto a motore. Indicativamente il costo di ricarica oggi è calcolato in circa 50 centesimi, quindi anche un occhio alle tasche, visto il costo della benzina che è in continua limitazione, io direi che non vi resta che andare presso la rete concessionaria KTM dove è possibile acquistare già da oggi la freeride elettrica. Il costo è di circa 11.000 euro più i costi di messa in strada. Il costo è di circa 30 centri. Il costo è di circa 15.000 euro più i costi di messa in strada. Il costo è di circa 30 centri. Il costo è di circa 15.000 euro più i costi di messa in strada. Grazie a tutti.